MEDA, UN'ARMA! Non voglio morire! E' scioglio! Non voglio morire, non voglio morire! 9-1-1, dichiari l'emergenza, venite subito, è una cosa seria! A tutte le unità, la centrale ha avviato la stanzione CPOS per il sospetto. A tutte le unità, la stanzione CPOS ha individuato il sospetto, dilamiamo la posizione. La volante potenziata è all'inseguimento del sospetto. Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire! Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire! Non voglio morire, non voglio morire! Non voglio morire, non voglio morire! Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire! Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire! Sì, sì, sì.